Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi spiego l'algoritmo di Berger, l'algoritmo di Berger è quell'algoritmo che vi dà la possibilità di poter creare i tornei all'italiana e infatti io vi sto facendo questo video per invitarvi ad iscrivervi al torneo all'italiana che SimDriver si è lanciato in questi giorni con il simulatore RaceRoom che si corre di sabato sera alle 21 con un calendario abbastanza lungo 7 gare ragazzi che danno la possibilità appunto di creare questo girone all'italiana in cui tutte le squadre devono affrontarsi per andare poi ad alimentare una classifica e chi arriva con il maggior numero di punti vince appunto questo torneo per entrare nel dettaglio un po' di come funziona il torneo all'italiana basti pensare che ogni squadra sarà composta da tre piloti, se raggiungiamo 24 iscritti spero di si, infatti sarà limitato proprio a 24 iscritti e ogni squadra composta appunto da questi tre piloti correrà ogni singola gara, due per giornata, in cui la prima gara rappresenterà la gara di andata e la seconda gara di ritorno e dovrà sfidarsi con una sola squadra cioè si corre tutti insieme le otto squadre però il vostro interesse per ogni giornata sarà rivolto alla squadra vostra avversaria diretta le possibilità che avete in base ai punteggi che ottenete sono quelle o di vincere o di pareggiare o di perdere, come il calcio, d'accordo? se vincete sono tre punti a casa, se pareggiate uno solo, se perdete zero ovviamente e questo verrà a alimentare la vostra propria classifica come si vince? molto semplice, basta fare più punti totali per ogni singola giornata del vostro avversario come saranno assegnati i punteggi? alla strongman numero totale di iscritti, quindi in questo caso 24 il primo arrivato prende 24 punti, il secondo 23, il terzo 22 e via dicendo quindi la battaglia potrebbe essere veramente strettissima tra ogni singola squadra ma pensate l'interesse che si ha di concentrarsi unicamente sulla squadra vostra avversaria vuol dire che non dovete essere più per forza primi ad ogni gara ma bensì davanti al vostro proprio avversario e questo può essere una formula abbastanza interessante una forma di test che potrebbe portarci un giorno a fare una vera e propria coppa del mondo chissà, infatti la chicca anche di questo campionato che ripeto dura sette gare è quello di nominare le squadre con i nomi delle nazioni quindi Italia, Francia, Germania, Brasile, Inghilterra e si girerà con sette auto completamente diverse tra di loro categorie molto molto interessanti su sette circuiti completamente diversi ovviamente tra di loro nella speranza che questa novità che propone SimDrivers sul race room ricordo il sabato alle 21 con speriamo di poter avere delle live io vi invito assolutamente ad iscrivervi a questo campionato i posti sono limitati a 24 ragazzi attenzione trovate tutte le informazioni su SimDrivers.eu io vi invito assolutamente ad iscrivervi attenzione mancano pochi posti mi pare che sono già 10 iscritti ragazzi come al solito io vi ringrazio per avermi seguito vi ringrazio per la vostra attenzione lasciate un pollice in su se l'idea vi piace noi ci sentiamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao